Ciao, io sono Arnaldo, in arte barbaruffa. Se sei qui è perché vuoi installare RetroPie sul tuo nuovo Raspberry Pi. Se non hai idea di cosa sto parlando, magari puoi recuperare la recensione del Raspberry Pi 3 cliccando nell'annotazione qui in alto. Se ti interessa il tutorial, procediamo subito. Per prima cosa devi cliccare sul link numero 1 presente in descrizione. Scarica RetroPie 4.4 e poi, scorrendo in basso, Win32 Disk Manager e SD Formatter. Installa Win32 Disk Manager e SD Formatter nell'ordine che preferisci. A questo punto, avvia SD Card Formatter. Inserisci una scheda microSD nel tuo computer e procedi a formattarla seguendo le istruzioni a schermo. La formattazione verrà finalizzata in pochi secondi. Adesso, esegui Win32 Disk Manager. Seleziona il file RetroPie 4.4 che avevi scaricato e procedi con il comando Scrivi. Quando l'operazione sarà conclusa, Windows ci chiederà se vogliamo formattare la scheda. Rispondiamo di no. Ora bisogna inserire la scheda microSD nell'alloggiamento del nostro Raspberry Pi. Quindi permettiamo al sistema di eseguire l'installazione. Quando l'installazione sarà conclusa, possiamo collegare un qualsiasi Joypad USB. Nel mio caso, sto utilizzando un DualShock della PlayStation 3. Configuriamo i tasti. Nel caso del DualShock della PlayStation, il cerchio è A, la croce è B, quadrato Y e triangolo X. Tutti gli altri tasti corrispondono alle istruzioni che compaiono sullo schermo. Abbiamo configurato RetroPie e la Emulation Station. Non ci resta che inserire le ROM, cioè i giochi, nel nostro dispositivo. Inseriamo una chiave USB nel computer e creiamo una cartella con su scritto RetroPie, tutto in minuscolo. Scolleghiamo la chiave USB dal computer e inseriamola in una porta qualsiasi del Raspberry Pi. Dopo un minuto scarso, possiamo reinserire la penna nel computer. Sono comparse delle cartelle in cui è possibile trascinare le ROM corrispondenti agli emulatori. Ad esempio, possiamo trascinare una ROM del Game Boy nella cartella dedicata al Game Boy, e così via. Nel caso in cui volessimo sbizzarrirci, è possibile collegare il Raspberry Pi 3 al Wi-Fi e trasferire i file mediante protocollo SCP, cioè senza dover utilizzare il metodo della chiave USB, ma semplicemente collegandosi da una medesima rete Wi-Fi. Puoi apprendere di più sulle potenzialità del Raspberry Pi con una semplice ricerca su Google o su YouTube. Nel caso la cosa ti abbia intrigato, in descrizione puoi trovare tutti i link per l'acquisto e la mia recensione. Siete stati su Barbaroffa. Alla prossima!